musica Pierina Diatofa delle Iene ha fatto un servizio sulla cosiddetta cultura JK giapponese quella che normalmente viene definita compensated dating ovvero il fatto che sia possibile pagare per farsi intrattenere da ragazzina giapponesi in età scolastica le cosiddette maid anche se sia persone con il doppio o il triplo addirittura degli anni di queste 13, 14, 15 anni e via salendo a seguito del servizio molti di voi sono completamente impazziti e ve lo dico sia da amico sia da persona che svariati anni fa è stata influenzata moltissimo dalla cultura giapponese un'enorme parte di quello che sono è stata in realtà formata da vecchi lavori come City Hunter, Orange Road, Dragon Ball Hen, Noritaka, GTO solo per citarne alcuni capolavori nonostante ciò calmi tutti perché prima ancora che il servizio delle Iene fosse uscito ma soltanto presentato con un breve trailer sul web un sacco di voi mi hanno contattato indignati chiedendomi di parlare della disinformazione delle Iene del servizio populista di parte e in generale chiedendomi di demolirlo il servizio prima ancora di averlo visto il che denotava un pregiudizio di base male, malissimo nonostante il fatto che si tratti delle Iene e alle volte i loro servizi siano stati discutibili ma è vero, manga non significa porno ovviamente sono cose diverse è la paliziano parlare di manga e dire che sono soltanto porno è come comprare un libro Harmony e affermare dopo averlo letto che l'intera cultura italiana è basata sui desideri delle casalinghe di millemila anni che sognano di trovare l'uomo sensibile ma virile che le prende e le salva da una vita di dubbi andare con lui a cavallo giacere nella cascina al lago ma ricordiamoci che le Iene è un programma fatto per persone di giune di cultura giappo e quindi sino a un certo punto la necessità di semplificarne alcuni aspetti è comprensibile magari l'argomento si poteva affrontare meglio non c'è dubbio inoltre è vero il fenomeno JK non significa necessariamente pedofilia o prostituzione molti hanno però comparato le maid ha delle nostre PR e non è proprio così non è esattamente la stessa cosa infine, ed è un punto importante c'è un'enorme differenza tra le fantasie e la realtà essere attratto dalle ragazzine ma anche dalle bambine di quattro anni non è reato immagino sia un disturbo a un certo punto ma nessuno può essere colpevolizzato per un disturbo per quello che prova può esserlo soltanto se fa qualcosa e se questo qualcosa fa del male a qualcuno non si possono mettere a processo le intenzioni i pensieri e le fantasie se uno ha un certo tipo di tendenze e si tromba una bambola a forma di bambina o si guarda un anime di un certo tipo a casa sua cosa che viene descritta come mostruosa nel servizio fa invece super bene sfoga i suoi istinti in un modo che non danneggia nessun minore ed è quello che ci importa tutto il resto è moralismo noia e tentacofobia al massimo la società giapponese è profondamente diversa da quello occidentale e una delle cose che salta all'occhio è in effetti questa ossessione per la donna piccola giovane fragile indifesa come dicevamo ieri il porno è una riflessione della cultura di una società è quello giapponese è sicuramente unico nel suo genere mettiamola così e c'è qualcosa di male in questo? di nuovo assolutamente no ma il punto è che va bene finché siete maggiorenni e consenzienti e per loro stessa natura le minorenni non possono essere considerate consenzienti quindi si torna a bomba consenzienti a cosa? questi 30, 40, 50, 60enni pagano per la compagnia delle ragazzine per parlarci farci leggere il futuro e guardare gli spettacolini delle idol e cazzate del genere non necessariamente per farci sesso certo ma è sicuramente una situazione perlomeno strana quella che vede un adulto pagare per passare mezz'ora in un cubicolo a chiacchierare con una 14enne o comprare un cd per stringere la mano alla 13enne che canta sul palco e che lui ama tanto a 60 anni lo senti a pelle che c'è qualcosa che non va a tal proposito c'è un bellissimo documentario fatto da un giornalista che stimo parecchio ve lo lascio in descrizione perché anche lui l'anno scorso si è occupato di questa tematica focalizzandosi di più sullo sfruttamento criminale che gira dietro a questo business sulla prostituzione che spesso ne consegue e sul mondo sommerso che esiste proprio dietro alla facciata delle maid giapponesi che talvolta approda anche al traffico di esseri umani e mette le sue radici nell'isolamento sociale tematiche comuni a tantissimi altri ambienti degradati a prescindere da vestitini da studentessa foto di polaroid con i cuoricini lenzuoline con elokitti e cazzate varie quelle stesse ragazzine in Italia non potrebbero nemmeno fare le cameriere tanto sono piccole non tutte ovviamente ma parliamo di quelle molto piccole figuriamoci vendere massaggi per strada e non possiamo far finta che queste cose non esistano anche se apprezziamo tanti altri aspetti della cultura giapponese di nuovo io li apprezzo altrimenti siamo come quei ragazzini che impazziscono quando dicono al TG che GTA è violento e controverso certo possiamo e dobbiamo scagliarci contro chi dice che i videogiochi portano alla violenza perché è una stronzata anzi prepariamoci perché sta per uscire Doom con i suoi demoni i suoi pentacoli e tutto quanto quindi sarà un casino ma non possiamo dire che GTA non sia violento perché se lo facciamo siamo ridicoli è violento ed è cinico oltre a essere tante altre cose quindi l'unica domanda da farsi in questo caso è alcune sfaccettature di questa cultura facilitano o no il fenomeno della prostituzione minorile in Giappone parlando di altre cose invece oggi è 1 aprile da qualche anno ribattezzato il giorno nel quale le aziende vogliono saltare sul carrozzone dello scherzone ma ogni anno si ritrovano a doverlo fare in modo sempre più plateale e stupido se no le persone ci cascano davvero e poi è un casino le migliori di quest'anno sono senz'altro le campagne di Pornhub che ha messo in un page i video dedicati alle persone che trovano sessualmente attraente il cibo roba strana ma non giudico a ognuno il suo quella di YouTube che ha lanciato lo Snoop a Vision ovvero la possibilità di guardare alcuni dei video virali seduto in un cinema assieme a Snoop Dogg H&M che ha lanciato la linea Zuckerberg che consiste in una serie di magliette tutte uguali e un solo paio di jeans e Google che ha lanciato la versione del suo Google Cardboard però in plastica che serve per vedere il mondo in 3D quello reale di nuovo ormai cose così stupide in modo che sia impossibile cascarci e a tal proposito c'è un casino legato proprio a Gmail che avrebbe aggiunto al suo popolare servizio di messaggistica un bottone che permette di archiviare una conversazione aggiungendo un minion che fa mic drop e impedendo ulteriori conversazioni appunto perché mic drop e ovviamente le persone l'hanno utilizzata in mail di lavoro lamentandosene successivamente e Gmail ha rimosso la funzione scusandosi perché di nuovo pesci d'aprile a prova di idiota che sta scrivendo una mail di lavoro e wow schiaccerò su questo tasto in questa mail importantissima cosa mai potrebbe andare storto parlando di altre cose fantastiche peraltro vi lascio in descrizione due link ho aspettato venerdì per mostrarvi questo questo un video musicale fatto dallo youtuber Jacksfilms lo seguo da una vita che si chiama il dramma è più popolare dei contenuti questo giusto per ricordare che alcune meccaniche sono globali non tipiche dell'Italia o di YouTube come si pensa è tutto sempre la stessa storia dappertutto e c'è anche un'altra canzone che si chiama YouTube Culture è fatta in collaborazione se non riusciste a seguirla ci sono i sottotitoli in inglese è un ottimo pezzo di satira su YouTube fatemi poi sapere se vi sono piaciute in ultima gentaglia le dimissioni del ministro Guidi spiegate molto semplicemente così abbiamo tutti una chiara idea di cosa stia succedendo ieri sera infatti questa persona qui Federica Guidi si è dimessa dal suo ruolo di ministro allo sviluppo economico dopo la pubblicazione di alcune intercettazioni riguardanti delle sue conversazioni con il suo compagno Gianluca Gemelli un imprenditore Gemelli è stato intercettato in merito a un'altra questione ma dalle intercettazioni salta fuori che in quanto imprenditore e il suo lavoro avesse degli interessi in merito alla costruzione di infrastrutture che avrebbero dovuto essere utili al progetto Tempa Rossa cos'è? è uno dei più avanzati sistemi di pompaggio di petrolio apparentemente una sorta di trivella che non si costruirà in mare questo è importante il referendum non c'entra assolutamente niente si costruirà qui in Basilicata vicino a Potenza e sta roba è stata affidata alla francese Total e a regime dovrebbe essere in grado di pompare sino a 50.000 barili di petrolio al giorno un'opera titanica quindi la sola costruzione dovrebbe dar lavoro ad almeno 300 persone ma la realizzazione del tutto è stata rallentata dall'opposizione della regione Basilicata per paura di inquinamento e in generale di danni ambientali ovviamente quindi questo tipo compagno della ministra aveva un interesse affinché il progetto si sbloccasse dal pantano nel quale era ed è accusato lui però non il ministro di aver approfittato della posizione politica della compagna per fini personali e questa cosa è reato si chiama millantato credito nella telefonata intercettata si sente il ministro che racconta al compagno che la situazione potrebbe sbloccarsi presto a causa di un emendamento passato poi in senato con la fiducia nel 2014 il che manda in brodo di giugere l'imprenditore successivamente comunque nulla succederà perché apparentemente il governo avrebbe deciso di non scavalcare l'autorità della regione Basilicata c'è un po' di dubbio su questo comunque i lavori in questo momento sono fermi dal 2014 non è successo niente anche se il presidente del consiglio ha definito il tutto come un polo industriale di vitale importanza per il paese quindi c'è dell'interesse attorno a questa trivellona quindi quindi il ministro ha deciso di dimettersi di sua spontanea volontà probabilmente spinta dal partito ma non era una cosa dovuta visto che non c'è nessuna indagine su di lei e la maggior parte delle persone non non si interessano in realtà l'unica cosa che è veramente degna di nota assemblerebbe è il fatto che nella telefonata è citata anche il ministro Boschi ben più noto ministro delle riforme costituzionali e dei rapporti con il parlamento dato che la ex ministra afferma nella telefonata che la Boschi potrebbe essere d'accordo con il far passare l'emendamento che poi è passato il che però non significa che la Boschi sapesse di questo conflitto di interessi ma semplicemente che il suo assenso fosse vitale per far passare una legge così importante cosa che è piuttosto normale visto il suo ruolo e infatti di nuovo nessuno ha indagato né lei né l'altra ovviamente però attorno a questo nodo si discuterà moltissimo in questi giorni quindi quindi ora il ministro si è dimesso e il suo incarico torna nelle mani del presidente del consiglio Matteo Renzi sino a che lui non deciderà di fare un nuovo ministro o una nuova ministra ed è tutto qui a parte tutte le valutazioni politiche del caso ovviamente ma quelle le lascio a voi questo è tutto per oggi io devo andare a ubriacarmi è venerdì grazie per aver guardato grazie a Marco che mi manda questa foto mostra il mio logo dietro ai due poster Marco grazie mille giuro che non lo sto facendo apposta tutte queste foto con i poster però evidentemente il periodo sono foto vecchie il periodo nel quale evidentemente c'è stato il primo boom eccetera peraltro noto che un sacco di voi li mettono così io normalmente li metto col vetro i poster cioè compro il vetro e poi in questo caso non c'è ma perché sennò vedreste il riflesso delle mille mila luci che ci sono in questa stanza e non sarebbe bellissimo però secondo me col vetro davanti i poster sono più belli sto parlando molto me ne vado e Marco prima o poi barro la tua birra artigianale non c'è dubbio fate i bravi ci vediamo lunedì buon weekend